In questo breve spazio di 180 secondi approfondiremo in maniera abbastanza veloce la circolare 6 del 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sull'obbligazione solidale estensibile anche alla subfornitura. A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato una nuova circolare, numero 6 del 2018, dove affronta in maniera abbastanza sintetica le problematiche connesse all'interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale. Stiamo parlando della sentenza 254-2017. In questa sentenza costituzionalmente orientata la Corte Costituzionale dà un'interpretazione più ampia del concetto di solidarietà. La sentenza di cui stiamo trattando sostanzialmente è andata a dare un giudizio costituzionalmente orientato rispetto all'interpretazione dell'articolo 29,2 del decreto legislativo 276 del 2003. In particolare il decreto legislativo all'articolo 29 coinvolge solidarmente appaltatore e tutti gli eventuali subappaltatori per quanto riguarda gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi del personale coinvolto nell'appalto nel limite dei due anni, nel limite temporale dei due anni, comprensivo anche le quote di TFR maturato. Quello che il giudice costituzionale dice e sostiene è che rispetto agli articoli 3 e 36 della Costituzione, il circoscrivere l'obbligazione solidale solo all'appalto o al subappalto potrebbe essere limitativo e garantire una minor tutela a tutti quei lavoratori convolti in processi di decentramento produttivo. Secondo questa sentenza della Corte Costituzionale, a prescindere che la subfornitura può essere considerata un negozio autonomo o una specie del contratto di appalto, quello che interessa o che deve interessare è che la tutela deve essere stesa anche ai lavoratori oggetto di decentramento produttivo, anche se in subfornitura. La Corte è andata ad esaminare la razza sottoposta a tutela di quella norma, non deve essere rivolta quindi al negozio, ma deve essere rivolta alla tutela dei diritti di quei lavoratori oggetto di un decentramento produttivo e che quindi devono essere garantiti e solidalmente tutelati da un punto di vista retributivo, contributivo e assicurativo nel limite dei due anni. Inoltre, sempre seguendo l'interpretazione della Corte, così come ribadito nella circolazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, questa tutela deve spiegare i suoi effetti anche nei confronti del distacco disciplinato dall'articolo 30 dello stesso Decreto Legislativo 276 del 2003 e nei confronti del cosiddetto distacco trasnazionale, tra società estera distaccante e società italiana distaccataria. Grazie a tutti!